Ho la sensazione che la dichiarazione del commissario Capodice ci dia una certa conferma rispetto a quel progettino che è uscito nei primi del mese di ottobre dall'assessorato alla sanità, laddove Sciacca non veniva più indicato come idea di primo livello e questo è un fatto di una gravità unica. Così Ignazio Cucchiara, portavoce del Comitato Civico per la Sanità, non nasconde il proprio timore anche basandosi sulle riflessioni generali del nuovo manager Giuseppe Capodieci in vista del futuro. Nel 2019 siamo stati indicati idea di primo livello perché c'era dovuto, afferma Cucchiara. Abbiamo avuto riconosciuto Sciacca come idea di primo livello nel rispetto di precisa disposizione e a questi signori noi diciamo state attenti perché noi vi denuncieremo alla Procura della Repubblica. Il idea di primo livello è un presidio ospedaliero per tutta la gente che deve raggiungere entro un'ora. Se si va oltre l'ora c'è l'esposizione al rischio del paziente di perdere pure la vita. Se noi consideriamo che siamo inseriti come idea di primo livello all'interno di questa fascia costiera che va da Mazzara del Valle ad Agrigento. Nel centro c'è Sciacca come idea di primo livello. Perché Sciacca è stata indicata? Perché noi abbiamo fatto la nostra battaglia? Noi ci siamo come Comitato ma con il supporto fondamentale sia dei sindaci dei deputati del tempo ci siamo battuti per dire guardate che Sciacca nessuno lo può fare diventare ospedale di base. Cucchiara poi ricorda che il territorio ha manifestato ampiamente la propria opinione sul tema nel corso della grande manifestazione popolare dello scorso 10 di novembre. Ci sono state delle scelte volute scelleratamente per fare dell'ospedale di Sciacca una sorta di scatola vuota. Oppure noi siamo nel mezzo di una crisi rispetto alla quale bisogna reagire e ha reagito Sciacca e il territorio di Sciacca. E come? C'è questo forte senso della partecipazione democratica. Con la sanità nessuno può scherzare. Pensare di scivolare nella sanità privata è forse il danno più grande ma soprattutto nei confronti della povera gente. Però bisogna dirlo noi abbiamo avuto il DEA di primo livello ma non avevamo la Stroke Unit. Sì Capodisi dice una cosa che lui oggi si trova a gestire una situazione che obiettivamente è quella che è e che quindi però la responsabilità attiene alla gestione precedente perché come ha detto più volte l'onorevole Margherita Larrocca se c'era una disposizione ben precisa perché non è stata osservata? Qua è una denuncia forte che indica responsabilità rilevante sotto profili diversi. Io la vedo un po' da avvocato e guardo anche la responsabilità di natura penale. L'ex sindaco si appella ai parlamentari del territorio. Catanzaro, Pance, Larrocca, Ruvolo. Ciascuno dei tre svolge un ruolo determinante e importante dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale. Hanno per vie diverse già dichiarato la loro disabilità. Ci mancherebbe, è una cosa naturale. Questa è la nostra terra, questo è il nostro ospedale. Qua ci sono gli interessi di questo bacino di utenza. Infine Cucchiara invita ancora una volta il sindaco Termini ad intervenire. Prendiamo posizione subito rispetto a questa faccenda e il comitato fa un appello ben preciso al sindaco di Sciacca. Signor sindaco, muoviamoci.